Ciao amici di YouTube! Bentornati nel mio canale Life Adventures. Oggi torniamo sull'amatissima Etna, precisamente a Milo. Questo è un comune di 1.038 abitanti della città metropolitana di Catania, compreso nel Parco dell'Etna. Nel centro storico padroneggia la chiesa madre, dedicata al padrono Sant'Andrea e costruita con la pietra lavica dell'Etna. Di fronte troviamo ad accoglierci la suggestiva piazza Belvedere, un balcone sulla costa ionica e sui comuni dell'entroterra che diradono fino al mare. Uno spettacolo davvero mozzafiato. Ad abbellire la piazza, due sculture in bronzo a grandezza naturale, raffiguranti Franco Battiato e Lucio Dalla. Un omaggio ai due cantautori che frequentavano abitualmente la città di Milo. Altro monumento di interesse è il vecchio mulino di origine medievale. Dopo i lavori di restauro sono tornati visibili i due piani di cui la struttura è costituita, quello del mulino vero e proprio e il vano che ospitava la macchina idraulica. Un omaggio ai due cantautori che frequentavano abitualmente la città di Milo. Un omaggio ai due cantautori che frequentavano abitualmente la città di Milo. Un omaggio ai due cantautori che frequentavano abitualmente la città di Milo. Un omaggio ai due cantautori che frequentavano abitualmente la città di Milo. Approfittiamo delle ultime ore di luce per fare un salto al castagno dei Cento Cavalli. è un albero di castagno plurimillenario considerato il più famoso e più grande d'Italia. Misura circa 22 metri di circonferenza per 22 metri d'altezza. La sua storia si fonte con la leggenda di una misteriosa regina e di cento cavalieri con i loro destrieri che vi trovarono riparo da un temporale. nel 1982 è stato inserito nel patrimonio italiano dei monumenti verdi. Termina così la nostra prima giornata a Milo. Nel prossimo video saliremo ai crateri silvestri e non solo. Rimanete connessi amici, ciao!